Ciao, sono Manuel, ho 27 anni e mi occupo di manutenzione dei treni alta velocità di Trenitalia nell'impianto di San Lorenzo, a due passi dalla stazione di Roma Termini. Il treno è universalmente riconosciuto come il mezzo di trasporto più sostenibile, ma forse in pochi conoscono la sfida portata avanti dal gruppo FS per ridurre l'impatto ambientale in ogni fase del processo produttivo. L'impianto è operativo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per cui diventa fondamentale ridurre i consumi energetici. Per l'illuminazione degli ambienti sono state installate lampadine a led a basso consumo, che insieme ai sistemi di gestione delle luci, quali sensori e regolatori automatici d'intensità, permettono una riduzione dei consumi di energia elettrica del 53% rispetto ai sistemi tradizionali. Un impianto solare termico di 72 pannelli abbatte quasi completamente il consumo di gas, in particolare nei mesi estivi. Sono state anche installate alcune colonnine di ricarica per i veicoli a trazione elettrica in servizio nell'impianto. Inoltre abbiamo collaudato un impianto fotovoltaico per la produzione annuale di 1,5 milioni di kilowattora di energia, ovvero il fabbisogno domestico annuo di 550 famiglie italiane, evitando anche le emissioni in atmosfera di circa 800 tonnellate di anidride carbonica all'anno. Lavorare in FS per me significa contribuire alla crescita sostenibile del paese, perché insieme facciamo squadra!